Abbiamo fatto le ultime due partite con due squadre che hanno un buon possesso, hanno qualità, ci fanno correre tanto, non danno punti di riferimento, oggi è uguale la pergolettese, con giocatori anche rapidi, tecnici, mettono in difficoltà sul piano della corsa, della qualità. Si è stati bravi a soffrire nel momento in cui loro prendevano campo, abbiamo difeso anche bene, si è stati bravi a ripartire, a trovare il gol del 1-0 al primo tempo e poi chiudere nel secondo. E' una partita così, sapevamo che c'era da soffrire tanto, ma ultimamente stiamo difendendo meglio, siamo un po' più attenti, magari creiamo qualcosina in meno, anche se ci sono state parecchie azioni, presupposte per chiuderla prima o per fare anche il terzo gol. Abbiamo un po' peccato di frenesia, quando trafai dei contropiedi anche in superiuta numerica, bisogna sfruttarli e essere bravi a chiuderla. Il prima possibile, perché però basta un gol e la partita poi si riappre. Volevamo portare a casa questo risultato, cambiare il treno in questo nuovo anno, soprattutto in casa, e queste due partite ci sono girate bene, sono stati bravi e abbiamo portato a casa sei punti importanti.